Giulio Brusa, sono sull'1-1 l'Italian Softball Series dopo le prime due partite, considerando l'infortunio di O'Toole, per voi è soddisfacente aver vinto una delle prime due partite e andare a bollare sull'1-1? Sì, sicuramente sì, è un risultato per noi positivo, è quello che speravamo anche perché loro avendo questi due ottimi lanciatori potevano perdere anche tutti e due. Siamo riusciti a vincere la prima partita, per noi è già un ottimo risultato, è chiaro che speravamo anche in qualcosina di meglio nella seconda di fare qualche punto anche noi, ma non ci siamo riusciti, pazienza così, è nato bene così. Vi aspettavate di battere un pochino di più contro Poli, di restare comunque di più in partita rispetto a quello che poi avete subito? Sì, io speravo, come anche Callisto, di arrivare almeno un settimo inning, di fare qualche punto anche noi, di battere un po' di più, sicuramente ce l'aspettavamo, però purtroppo Poli ha lanciato molto bene. L'obiettivo a questo punto immagino che sia provare a puntare sulle gare dispari, Cacciamani in gara 3 e poi eventualmente in gara 5. Esatto, effettivamente la nostra speranza, il nostro desiderio è questo qua, proviamo a giocarci tutto con il Cacciamani, con il ricevitore straniero e sperando di ripeti il risultato della prima partita, poi sarà quel che sarà. Noi siamo già contenti di essere, ripeto, di essere arrivati in finale, ci siamo anche quest'anno, purtroppo quest'anno sulla carta siamo un po' più deboli, però una partita secca non si può mai dire. Perfetto, grazie mille. Posto? Grazie, buonasera a tutti.